A Fano lo start della sfida elettorale dovrà attendere ancora un'altra settimana. Il centro-sinistra ha scelto infatti la strada delle primarie fra i quattro assessori della giunta seri in lizza per la candidatura. Il risponso dei dieci seggi aperti cittairi ha infatti sentenziato che si dovrà andare al ballottaggio fra Samuele Mascarin e Cristian Fanesi. L'assessore della lista in comune è stato il più votato con 937 preferenze, ovvero vicino al 31%. Il vice sindaco Fanesi è stato invece votato da 890 schede, ovvero poco più del 29%. Tagliati dunque fuori dalla candidatura Etienne Lucarelli con 765 voti e Cora Fattori con 459. Spicca il dato della modesta affluenza, alle urne si sono infatti presentati 3071 votanti Fanesi, ovvero circa 1200 in meno rispetto a dieci anni fa quando le primarie incoronarono massimo serie al primo turno. Domenica 14 aprile potranno dunque tornare a votare i 3071 elettori presentatisi al primo turno con seggi aperti dalle 8 alle 20 per scegliere chi, fra Mascarin e Fanesi, sfiderà il centrodestra di Ser Filippi alle elezioni amministrative di giugno.